Giù le mani dalla scuola! La scuola non si tocca! 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 Per protestare contro questa non aspettata chiusura della scuola e visto che siamo qui ormai da dieci anni e mezzo perché io ho tenuto qui la mia prima figlia che adesso è uscita e ho il mio secondo figlio qui diciamo che riteniamo veramente impensabile che una struttura del genere, con i servizi del genere con il personale del genere e le iscrizioni del genere possa adesso finire di lui che nell'allegria nel tuo cuore, nel tuo cuore tutto si trasforma che nell'allegria nel mio cuore, nel tuo cuore Gesù che sta passando mano la scuola che si tratta! Poi senso il gusto! Ripetere! Grazie a tutti.